Allattamento in posizione di nutrimento biologico In questo video scoprirete una posizione dell'allattamento al seno chiamata nutrimento biologico come descritta da Suzanne Colson. Questa posizione ha numerosi vantaggi, quello di rilassare completamente la madre, di incoraggiare l'uso dei riflessi innati del bambino per cercare il seno e di stabilire un'interazione tra mamma e bambino che favorisca una buona produzione di latte. Per adottare questa posizione mettetevi comode in una posizione semisdraiata. Il vostro corpo deve essere sostenuto, soprattutto la testa, il collo e le spalle, che sono i principali punti di stress durante l'allattamento. Adagiate il vostro bambino sopra di voi. Può essere sdraiato in senso longitudinale, trasversale o obliquo rispetto a voi, purché tutto il corpo e soprattutto i piedi siano sostenuti. Questo supporto gli consentirà di muoversi. Il bambino solleverà spontaneamente la testa con piccoli movimenti per afferrare il seno. Non esitate a guidarlo se necessario. Non spingete sulla testa. Essendo sensibile, il bambino tenderebbe ad allontanarsi dal seno anziché avvicinarsi. Una volta che si è attaccato al seno, avvolgetelo con le braccia per dargli stabilità. E divertitevi! Questa posizione permette una visione chiara ed è ideale per scambiare sguardi con il vostro bambino.